Dove diavolo sono? La domanda giusta è... QUANDO diavolo sono? Siamo rimasti nel 1955. Stiamo arrivando nel 1855. Ma eravamo partiti dal 1985. Incredibile. Ma che dici? Come possiamo essere nel futuro? La trilogia di Zemeckis per tre sabati su Italia 1. Ti rimanerò indietro nel futuro! Ritorno al futuro. Sabato alle 21.10.